Riforma del mercato del lavoro, tipologie contrattuali ed ammortizzatori sociali, temi del confronto, governo parti sociali, le proposte della CISL. Colfe Badanti riprende il negoziato per il nuovo contratto, oltre 1.200.000 gli addetti del settore, prevalentemente donne ed immigrate. Starwood Hotels Resort, al via la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, relazioni sindacali, formazione, premio di produttività, alcuni dei temi chiave. Bentornati al TG Lab, siamo ormai alle battute finali nel confronto governo parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro. Le ultime novità nel servizio di Paola Mele. Assicurazione sociale per l'impiego, dovrebbe essere questa la nuova formula degli ammortizzatori sociali per il sostegno al reddito in caso di licenziamento, come proposto dal Ministro del Welfare Elsa Fornero. L'attuale indennità di mobilità verrebbe gradualmente cancellata fino ad essere completamente sostituita dal nuovo impianto della indennità di disoccupazione, che così come ipotizzato prevederebbe l'erogazione di un importo economico pari al 70% della retribuzione media del biegno, fino a 1.250 euro mensili, per un periodo di 12 mesi contro gli 8 attuali, fino a 50 anni e per 18 mesi contro i 12 attuali, oltre 55 anni. Rimarrebbero invariati i requisiti di accesso al trattamento, ossia i due anni di anzianità assicurativa ed almeno 12 mesi di attività lavorativa, che troverebbe applicazione anche per i lavoratori del settore privato a tempo indeterminato, determinato e per gli apprendisti. La proposta Fornero contempla anche l'erogazione di un contributo di licenziamento, pari a mezza mensilità all'anno, fino ad un massimo di tre anni. Confermato invece l'attuale meccanismo di requisiti ridotti, pari ad almeno 13 settimane lavorate negli ultimi 12 mesi. In costanza di rapporto di lavoro, gli strumenti di sostegno al reddito confermerebbero la cassa integrazione ordinaria nell'attuale assetto e l'erogazione della cassa straordinaria nei casi già previsti ad esclusione nel caso di cessazione di attività ed attraverso i fondi di solidarietà da gestire attraverso la bilateralità. Per la CISL, la proposta del Ministro Fornero in caso di licenziamento dovrà consentire delle migliorie con la previsione di allungamento della fase transitoria di passaggio al nuovo impianto assicurativo, considerato il perdurare della crisi e dovrà anche contemplare l'attribuzione di un ruolo specifico di sostegno al reddito in capo ai fondi interprofessionali. Bene invece la trattativa sulle tipologie contrattuali in fase di ingresso nel mercato del lavoro con il ricorso privilegiato al contratto di apprendistato così come riformato lo scorso anno e con iniziative di contrasto alle forme di flessibilità del lavoro cosiddette malate come false partite IVA, associate in partecipazione e contratti a chiamata. Su questo tema la CISL ha ribadito la necessità di prevedere interventi risolutivi contro il frequente ricorso al lavoro autonomo dietro al quale si celano in realtà forme di lavoro subordinato. La trattativa dovrebbe concludersi entro la prossima settimana affrontando tra l'altro il delicato tema della flessibilità in uscita cioè l'articolo 18. La riforma del mercato del lavoro interessa in particolare i settori del terziario perché sono i settori ad occupazione prevalente quindi tutta la discussione che è in atto in queste settimane, in questi giorni deve essere una discussione che deve comprendere anche delle politiche nuove per il sostegno al reddito ad esempio nei settori del terziario, del commercio, del turismo e dei servizi attraverso la valorizzazione soprattutto della bilateralità dei fondi interprofessionali e di una vera politica finalmente di politiche attive del lavoro. Sono oltre un milione e duecentomila prevalentemente donne ed immigrati i lavoratori domestici, colfe e badanti interessati dalla ripresa del tavolo per il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 28 febbraio dello scorso anno. Tra le richieste della Fisaskat la valorizzazione dei percorsi formativi che possono garantire una professionalità adeguata alle crescenti richieste delle famiglie, degli anziani e dei non autosufficienti. Ma anche nuove tutele per la maternità con la conservazione del posto di lavoro fino ad un anno di vita dei figli, la malattia e la richiesta del rispetto delle normative vigenti in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Tra le altre richieste anche la previsione dell'obbligo di risarcimento in caso di mancata iscrizione alla Cassacolf, la Cassa di assistenza sanitaria operativa dal 1 luglio 2010, anche con la previsione di un aumento del contributo in seno agli enti bilaterali del settore, ai quali competerà anche l'importante compito di erogazione della formazione professionale mirata sui temi della salute e della sicurezza. Per la Fisaskat è prioritario avviare la contrattazione decentrata per favorire lo sviluppo di logiche partecipative. sulla parte economica la richiesta di un congruo incremento salariale che tenga conto della valorizzazione della professionalità e l'adeguamento dei minimi retributivi alla realtà del mercato. Parliamo ora del contratto integrativo di Starwood, una delle principali società di hotel e resort, presente in quasi 100 paesi nel mondo per 154 mila dipendenti. Nelle scorse settimane la multinazionale ha illustrato ai sindacati le criticità che hanno caratterizzato l'andamento dell'azienda presente in Italia, Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli e a Porto Cervo in Sardegna. Le organizzazioni sindacali hanno presentato il documento per il rinnovo del contratto integrativo aziendale che nel merito prevede il rafforzamento del sistema di relazioni sindacali a livello nazionale di area e di hotel, la previsione di percorsi di formazione professionale oltre alla costituzione di una commissione sulle pari opportunità e di una commissione paritetica a cui affidare il compito di pianificazione dei percorsi di formazione sui temi della salute e della sicurezza. Sul mercato del lavoro la richiesta è di attivare il confronto con le rappresentanze sindacali sui temi del lavoro stagionale, supplementare ed a tempo determinato, con l'espressa richiesta di definizione della casistica di trasformazione del contratto di lavoro da part-time a full-time e viceversa. Sulla parte economica si chiede all'incremento del premio di produttività legato ai risultati aziendali. È proseguito il confronto con la direzione di Copa Nord-Est sul lavoro domenicale e festivo. La direzione aziendale, nel manifestare la volontà di ricercare soluzioni adeguate, ha dichiarato la disponibilità a trattare anche sulla delicata partita della maggiorazione economica da riconoscere ai lavoratori impiegati appunto la domenica e nelle giornate festive, ma con la previsione di che tali prestazioni siano considerate come lavoro ordinario. Nelle scorse settimane la direzione aziendale aveva comunicato di non ritenere più applicabili le norme del vigente contratto integrativo sul lavoro in deroga, prevedendo per tali prestazioni la sola maggiorazione del 35% e del 135% per il lavoro effettuato nel periodo natalizio. La FISA-ASCAT ha espressamente richiesto di mantenere l'attuale griglia delle maggiorazioni. La trattativa è aggiornata al 30 marzo prossimo. La trattativa per il rinnovo del contratto integrativo Coppestense scaduto nel 2007 ha riguardato il tema del riconoscimento economico delle prestazioni domenicali e festive. Per la FISA-ASCAT tali prestazioni dovranno essere congruamente remunerate anche in considerazione del maggior sforzo richiesto ai lavoratori per il presidio dei punti vendita. La FISA-ASCAT ha espresso perplessità in ordine alle paventate proposte aziendali sulla cancellazione delle condizioni di miglior favore applicate all'attuale personale e sul consolidamento occupazionale che sarebbe subordinato esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo delle vendite nel triennio di validità contrattuale. È sempre più problematica la situazione degli Iper-Apulia Supermercati che ha comunicato agli esuberiti personale 92 per il punto vendita di Bari-Pasterra e 34 su quello di Matera. La categoria Cislina ha sottolineato la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali anche attraverso il ricorso alla cassa integrazione. Le parti si incontreranno il 5 aprile prossimo. Parliamo ora dello storico marchio La Rinascente. Nel corso dell'ultimo incontro la proprietà tailandese ha fornito alcuni dati sull'andamento economico mettendo in luce lo stato di sofferenza complessiva della rete vendita che riguarderebbe in particolare le tre filiali di Genova e Palermo per le quali sono già in corso trattativa per il ricorso al contratto di solidarietà e per il punto vendita della provincia di Monza-Brianza per il quale al momento non sono previste interventi di riorganizzazione. Confermati invece gli investimenti sull'apertura e su alcune ristrutturazioni. I sindacati hanno evidenziato la necessità di ripristinare corrette relazioni sindacali a diversi livelli. Le parti hanno siglato l'intesa sulla detassazione del salario di produttività e l'accordo sulla formazione professionale da avviare attraverso il fondo interprofessionale del terziario forte, formazione della durata di 12 mesi. La corretta applicazione dell'accordo sarà monitorata da un comitato paritetico appositamente costituito. Fatturato in calo del 6,5% sul 2010 e reddittività approssimativa verso lo zero. Sono solo alcuni degli indicatori forniti ai sindacati dal gruppo Shan che evidenziano le criticità e le difficoltà derivanti dalla crisi dei mercati e dallo stato di recessione in cui verse il Paese. L'azienda ha annunciato la messa in campo di politiche commerciali finalizzate al riequilibrio dei conti ed ha confermato l'investimento di ulteriori 70 milioni di euro per la modernizzazione degli iper e l'apertura di quattro stazioni carburante. L'azienda ha condiviso le richieste sull'applicazione del contratto di solidarietà in caso di ristrutturazione aziendale. I sindacati dal canto loro hanno chiesto il rispetto di corrette relazioni considerate le segnalazioni provenienti dai lavoratori di territori. A dieci anni dall'omicidio di Marco Biaggi l'Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali ADAPTA ha ricordato il gius lavorista ripercorrendo il suo pensiero attraverso la lettura degli iscritti e le testimonianze di amici, colleghi ed allievi per cogliere ancora oggi l'attualità dei percorsi di modernizzazione del mercato del lavoro ipotizzati dal professore nel famoso libro bianco. L'argomento sarà approfondito nel corso del Focus Lab del 20 marzo. Rosetta Rato, segretario organizzativo della Fisaskat CISL, è stata eletta la vicepresidenza di Fondo Professioni, il fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti degli studi professionali e delle aziende collegate. Finanziare la formazione dei dipendenti e lo sviluppo di competenze in questo settore significa offrire nuove opportunità di mantenimento del posto di lavoro a tante donne e tanti giovani. Così Rosetta Rato ha commentato la mission di Fondo Professioni e l'opportunità di intervenire attraverso i fondi interprofessionali nella realizzazione di politiche attive per il lavoro. Alla presidenza di Fondo Professioni è stato confermato Massimo Maggi. Chiudiamo il nostro DG con la notizia dell'elezione del nuovo segretario della Fisaskat CISL di Como. Sarà Massimiliano Arighi a guidare la categoria territoriale insieme ai colleghi di segreteria Orlando Procopio e Lucia Fusco. Alla neo eletta segreteria la Fisaskat nazionale augura buon lavoro. Ci salutiamo, vi ricordiamo che è possibile consultare il TG Lab anche su Facebook e YouTube, sul canale Fisaskat CISL e che potete inviarci segnalazioni e suggerimenti all'indirizzo mail redazione tglab-fisaskat.it. Vi ricordiamo inoltre che sul sito web della federazione www.fisaskat.it è possibile consultare on demand gli approfondimenti del nostro TG sugli argomenti di maggiore interesse della categoria e le notizie di natura sindacale e territoriale. È tutto, grazie per averci seguito, vi aspettiamo la prossima settimana. La Fisaskat tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio, turismo e servizi garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La Fisaskat sostiene la bilateralità, cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali che interviene attraverso la contrattazione, in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione continua. Attraverso la Fisaskat e il sistema servizi integrati della CISL, il CAF e il patronato INAS, è possibile usufruire di consulenza per la dichiarazione dei redditi, per le pratiche previdenziali ed assistenziali e in caso di malattia, maternità, infortuni, assegni familiari e relativamente alle domande di disoccupazione. È possibile essere sempre informati sull'attività della Fisaskat attraverso il TG Lab, notiziario settimanale online e con i periodici Progetto Terziario e Laboratorio Terziario. All'indirizzo www.fisaskat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 126 sedi territoriali e regionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel Terziario, Turismo e Servizi. La Fisaskat è il tuo sistema di tutela. Grazie. 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 Grazie.